Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like, e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. Dopo mesi di speculazioni e voci, è arrivata la conferma tanto attesa. Carlotta Mantovan, moglie del compianto Fabrizio Frizzi, entrerà a far parte del cast di Ballando con le stelle. La donna, nota per la sua riservatezza, ha deciso di tornare sotto i riflettori in un gesto di amore e coraggio. Dopo la scomparsa del marito nel 2017, colpito da un ictus fatale, Carlotta ha vissuto nel silenzio, dedicandosi interamente alla figlia Stella. Ora, sentendosi pronta e sostenuta dall'affetto delle persone intorno a lei, ha deciso di affrontare questa nuova sfida. In un'intervista al Corriere della Sera, ha spiegato il suo ritorno dicendo. Per prima cosa vedere che Stellina, mia figlia, è serena. Era la condizione indispensabile per rimettermi in gioco. Questo amore mi ha convinta. La sua partecipazione al programma segna un passo significativo verso la guarigione, dimostrando forza e determinazione. Con umiltà, Carlotta ha scherzato sulle sue abilità di danza e canto, ma ha sottolineato che la sua volontà è forte. La sua presenza nel cast aggiunge non solo una nota di emozione al programma, ma anche un esempio di resilienza e amore, ispirando tutti noi a affrontare le sfide della vita con coraggio. Lascia un commento alla fine del video. E seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.